Una polemica che divampa sul caso della balneabilità del mare a Pescara. Nell'ultima settimana si sono succedute immagini di persone affette da dermatiti e strane bolle e di notizie su bambini affetti da gastroenteriti. L'accusa ora rivolta alla pubblica amministrazione è quella di aver tenuto nascosta la reale situazione dell'acqua dopo la rottura di una fogna lo scorso 28 luglio. Vanno anche un attimo circostanziate queste cose. Se ci dispiace per i ragazzi, i bambini che abbiano avuto questi problemi all'epidermide però il dato scientifico è quello che ci conforta. Noi non abbiamo ragione di ritenere che le analisi che ci sottopongono non siano rispondenti al vero e dunque legittimamente attestata la validità delle acque ecco che si è proceduto in avanti. Se il primo cittadino dichiara che le analisi dell'arta non rilevano inquinamento dall'altra esce la notizia dell'utilizzo di 350 litri di oxy strong versato in mare. Una missione di colpa secondo Fiorilli che da tempo denunciava il cattivo stato della balneabilità pescara. Quello che dice l'arta adesso, cioè tardi, conferma proprio quello che abbiamo denunciato cioè che il mare era inquinato in quei tre giorni, assolutamente tre giorni terribili in cui il bagno non doveva essere fatto, doveva essere emesso un diveto di balneazione da parte del comune, della capitaneria, degli enti preposti, così non è stato fatto. Il comune si arranca dicendo che i risultati dell'arta sono arrivati soltanto tre giorni dopo e poi stranamente le analisi suppletive sono arrivate lo stesso giorno. È chiaro che questa vicenda è molto torbida, è più torbida dell'acqua che abbiamo avuto nel mare. Non può essere così perché se l'arta dice che ha versato l'oxy strong così come è stato per disinquinare l'acqua significa che l'acqua era inquinata, questo mi sembra palese. Su quei tre giorni terribili invece non dice nulla nel comune e nell'arta, cosa gravissima perché purtroppo il danno è stato già fatto.